E se digiunassimo dal troppo lavoro o dalle distrazioni e dessimo spazio a una lettura spirituale e all'ascolto dell'altro? Ci avviciniamo alla Pasqua e questi due autori e teologi ci introducono più a fondo nel mistero pasquale, titolo di questo libro. Alexandre Schmemann e Olivier Clément commentano il contenuto e il senso delle celebrazioni liturgiche che si susseguono dal sabato prima delle palme, il sabato della risurrezione di Lazzaro nel rito bizantino, fino al sabato santo e alla veglia pasquale. È l'attesa del giorno della risurrezione generale, la dimensione in cui si declina l'esistenza dei cristiani, ma soprattutto il modo di viverla tra ciò che siamo già e ciò che siamo chiamati a essere. Questo testo dischiude i tesori del mistero centrale della fede cristiana e ci nutre approfondendo proprio quei contenuti che ci accingiamo a vivere nella liturgia. Grazie. Grazie.